Anticipazioni Beautiful, trama puntate dal 16 al 21 aprile 2018, scontro fisico tra Queen e Sheila. Lunedì 16 aprile 2018, Katie e Brooke si confrontano sulla riappacificazione tra Eric e Queen, felici che il buon patriarca si sia liberato di Sheila. La bionda Logan chiede alla sorella cosa ne pensi Wyatt di tutto questo e lei arrossisce, non sapendo fornire una risposta appropriata. Poi Brooke aggiunge che vedendola al fianco di Wyatt la fa sentire sollevata. Finalmente dopo la rottura con Bill la vede più serena e felice, realizzata professionalmente. Ne approfitta per augurare ad entrambi un periodo rosio, in qualunque modo esso sia, e stuzzicandola le ricorda che non esistono amori impossibili. Steph intanto è in ufficio con Wyatt, gli dice di trovarlo sorprendentemente sereno. Forse c'è una nuova donna nella sua vita? Il giovane imbarazzato fa finta di niente e la SEO si scusa per essere stata troppo invadente. Poi il discorso si sposta sull'improvvisa partenza di Thomas. Il figlio di Queen teme che lo stilista possa allontanarsi definitivamente da Sally. Liam si unisce al coro e decide di andare a parlare direttamente con Bill per capire qual è il suo ruolo nella improvvisa partenza di Thomas alla volta della grande mela. Più tardi Wyatt resta solo con Katie. Tra i due è di nuovo passione. Mentre Justin e Bill pianificano come mandare rovina Sally per iniziare i lavori di costruzione del grattacielo che porterà il nome di Brooke, Steph passa a trovare Sally. Quest'ultima ammette di essere molto dispiaciuta per l'addio di Thomas, ma nel contempo orgogliosa del suo amato, che ha scelto di sostenere Caroline in un momento per lei molto delicato. Liam si presenta al cospetto di Bill, deciso a far luce sulla recente rivelazione della spettra legata alla malattia terminale di Caroline. Chiede al padre di essere sincero almeno con lui. Martedì 17 aprile 2018. Katie è spaventata all'idea di iniziare una relazione con Wyatt e gli chiede di non bruciare le tappe. A un tratto sopraggiunge Quinn e i due non esitano a congratularsi con lei per essere riuscita a fare nuovamente breccia nel cuore di Eric. Quando la designer se ne va, la Logan invita il suo amato a non fare passi falsi. Il loro flirt deve rimanere segreto. Bill intanto è costretto a mettere la verità in presenza di suo figlio. Si sta facendo credere a Thomas che Caroline stia per morire, al solo scopo di allontanarlo per sempre da Sally. Disgustato Liam impugna il telefono per contattare il figlio di Ridge, ma il padre lo blocca, pretendendo rispetto. Il giovane nervoso gli ricorda che sta costringendo il suo nipote a fare qualcosa che non vuole e soprattutto ha provocato la rottura tra due giovani innamorati, solo per i suoi losti affari personali. In preda alla rabbia Liam se ne va. A un tratto qualcuno bussa la porta dell'editore. Si tratta di Caroline in persona, decisa a porre rimedio alla brutta faccenda al più presto. Sally intanto tiene testa alla sua rivale. Andrà dritta per la sua strada, anche senza l'aiuto di Thomas, certa che quando ritornerà da lei formeranno una squadra invidiabile. Stephanie dispettita se ne va e viene raggiunta dal marito, che tutta ad un piatto le rivela che Thomas è partito per New York, non per libera scelta, ma per assecondare un capriccio di Bill. E le racconta della farsa legata della malattia terminale di Caroline. La giovane stenta a crederci e dopo un po' invita il suo amato a pensare al lato positivo della menzogna. Finalmente, grazie al magnate, Thomas è lontano dalla spettra fashion e da una donna inadatta per lui. Liam la guarda negli occhi scioccato. Mercoledì, 18 aprile 2018. Liam non apprezza che Steffi preferisca mantenere in piedi una bugia solo per il gusto di sbarazzarsi di una persona a lei scomoda. La SEO ribatte dicendo che Douglas deve stare accanto alla sua mamma e al suo papà, ma Liam ribadisce di essere molto deluso dai suoi ragionamenti. Caroline intanto è determinata a raccontare a Thomas la verità e dice allo zio che presto dirà al giovane di aver consultato un professionista che le ha assicurato che non morirà. Eric telefona a Sheila per informarla di essere ritornato con Quinn. La Carter, con un velo di tristezza, gli augura ogni bene. Poi il patriarca le chiede se ha avuto modo di ritrovare il suo orologio d'oro in hotel, un regalo di Stephanie. Sheila dice di sì e gli assicura che raggiungerà la villa il più presto per riportarglielo. Quando arriva nota il quadro di Quinn sul cammino e inizia a fantasticare su un possibile matrimonio con Eric. L'arrivo della Fühler la riporta alla realtà. Le due tra uno scambio di battute colorite e l'altro finiscono per dare il via a una colluttazione con tanto di lancio di oggetti. Sheila si avventa la sua antagonista finendo per rompere un tavolino di cristallo. Quinn afferra l'attizzatoio del camino e cerca di strozzare la Carter che si difende riuscendo ad avere la meglio. Soddisfatta Sheila le volta alle spalle per dirigersi verso l'uscita quando Quinn si rialza e le lancia contro un portatile. Sheila cade a terra e si procura delle brutte ferite. Eric dopo aver osservato la scena da lontano interviene e ammonisce pesantemente sua moglie, Rhea di aver tentato di uccidere la sua migliore amica. Giovedì 19 aprile 2018. Sheila è a terra ferita e ha perso i sensi. Eric ordina a Quinn di chiamare al più presto un'ambulanza. A un tratto la Carter si risveglia e accusa la rivale di aver attentato alla sua vita. Giunge un dottore che stabilisce che le sue condizioni sono molto preoccupanti. Qualcuno deve restare al suo fianco per vegliarla. Quinn propone di rispedirla in hotel e di affiancarle un'infermiera. Eric però stabilisce che resterà in villa. La fiulla gli ricorda che la Carter è una donna molto pericolosa ma suo marito è rimovibile. Brooke apprende dello scontro e ne resta sconvolta. Quando poi scopre che Sheila resterà a casa di Eric si mostra molto contrariata. Bill ha un colloquio con CJ al quale fa un'offerta molto golosa per impossessarsi al più presto della palazzina Spettra. Saul intanto visiona i bozzetti di Sally e li trova molto belli ma Shirley puntualizza che sua nipote ha bisogno del sostegno e dell'amore di Thomas per lavorare, brillare ancora di più e sbaragliare gli avversari. Sally tranquillizza tutti. Thomas è a New York solo per qualche settimana. Presto ritornerà da lei. CJ passa alla Spettra per informare sua cugina delle sue prossime mosse, vendere l'edificio. Gli è stata fatta un'offerta imperdibile. Sally scioccata intuisce che dietro alle sue recenti sfortune si cieli lo zampino della Spencer. Brooke intuisce che suo marito sta architettando qualcosa di losco e decide di indagare. Lui la tranquillizza dicendole che al primo posto vi è l'amore incondizionato che nutre nei suoi riguardi. Poi lanciando un'occhiata furtiva a Justin lascia intendere di avere in mente qualcosa di brutto. Venerdì 20 aprile 2018. Queen è disperata. Non può accettare che Sheila soggiornerà a Villa Forrester. Eric intanto accompagna la Carter in camera che si dimostra molto grata nei suoi confronti. Eric è certo che non rappresenterà una minaccia per il suo matrimonio. Poi, tornato dalla moglie, però va a tranquillizzarla. Ha intravisto nella sua ex un vero e proprio processo di guarigione. L'unico modo per tenerla d'occhio è permetterle di restare presso la sua residenza per qualche giorno. La Fühler però non molla e quando ha modo di restare da sola con la sua rivale, le raccomanda di non fare passi falsi. Ha intuito che il suo obiettivo è diventare la nuova matriarca Forrester e non glielo permetterà. Liam passa a trovare Bill e disgustato lo accusa solo di pensare ai propri interessi. Sally invece prega CJ di darle la possibilità di organizzare almeno un'ultima sfilata. Ma l'uomo non se la sente di rischiare. Steph incontra Bill e gli fa capire di essere dalla sua parte. CJ si congedra da Sally per raggiungere il magnate. Vuole concedere un'ultima possibilità agli spettra. Sua madre gli ha insegnato a non mollare e non può permettersi di fare un passo indietro di fronte alla prima difficoltà. L'editore rimasto solo afferma che contatterà Caroline per convincerla a non rivelare la verità riguardo al suo stato di salute a Thomas. CJ invece va da Sally e felice e speranzoso le promette che le concederà ancora qualche settimana prima di concludere l'affare con Bill. In lacrime la giovane e il suo staff fanno salti di gioia. Sabato 21 aprile 2018. Bill non accetta la decisione di CJ mentre Liam venuto a conoscenza dell'offerta gli dice che nella vita esistono valori molto più importanti del successo e del potere. Nervoso il magnate gli ordina di scrivere un articolo contro gli spettro ma il figlio si oppone. Bill ad irato inizia a pensare qualcosa di losco. Più tardi Steffi passa a trovare il suocero che le dice che Liam deve dimostrare fedeltà e lealtà all'azienda e smetterla di rincorrere vani ideali. Se raggiungerà Sally e le racconterà la verità sulla falsa malattia di Caroline sarà fuori dalla sua vita e dalla Spencer Publication per sempre. Sally incontra Liam per un'intervista e lei prima di iniziare gli confida di temere l'ennesimo colpo basso di Bill. Quando poi il colloquio ha inizio la ragazza gli parla dell'assenza di Thomas e della sua forza di andare avanti nonostante le avversità per inseguire i suoi sogni di carriera. Il suo desiderio non è quello di scavalcare i Forrester ma di diventare una sua degna rivale. Terminate le domande, Sally chiede a Liam un grosso favore. Vuole sapere la verità. Bill sta organizzando qualcosa di terribile nei suoi confronti? Sheila intanto fa credere ad Eric di aver perso la memoria e gli chiede perché si trova a dormire in un letto singolo e non nella loro camera matrimoniale. Il buon patriarca agitato le ricorda che non sono sposati. La Carter finge di aver sognato di essere sposata con lui. Poi la donna capisce di essere di troppo in villa e dice al suo ex di voler preparare al più presto i bagagli e andarsene. Quando si alza dal letto e fatti alcuni passi sviene tra le sue braccia. Verso sera il Forrester contatta un secondo medico per accertarsi che la Carter sia completamente guarita. Si tratta di James Warwick, suo ex marito. Quest'ultimo arriva in villa e con freddezza comunica la donna che provvederà a visitarla immediatamente. Anticipazioni Beautiful, puntate di maggio 2018. Scoperta shock per Queen, l'arrivo dell'affascinante Matteo. Nelle puntate in programmazione per il mese di maggio 2018 faremo la conoscenza di un giovane tuttofare di nome Matteo che verrà assunto da Eric per occuparsi dei lavori di manutenzione della villa. Vedremo che Sheila, che continuerà ad orbitare attorno al buon patriarca per tentare di diventare la nuova matriarca Forrester, si mostrerà molto interessata a nuovo arrivato. E non perché si innamorerà di lui tutt'altro. Cercherà di servirsi dell'affascinante ragazzo per allontanare Queen da Eric. Sulla scia del piano seduttivo ordito da Ridge nei confronti della sua matrigna, la psicopatica della SOP ordinerà dietro esorbitanti somme di denaro a Matteo di far cascare ai suoi piedi la designer. E ci chiediamo, di quali marchi ingegni si servirà ragazzo per riuscire nell'ardua impresa? Le anticipazioni Beautiful ci fanno sapere che non sarà affatto felice di distruggere il matrimonio del suo datore di lavoro e si tirerà più volte indietro. Il denaro patuito con la Carter però sarà una tentazione molto forte che quasi obbligherà l'uomo ad accettare la proposta dati i suoi complessi problemi familiari. Facendo leva su quest'ultimi, la folle amica di Eric inviterà Matteo a darsi da fare per fare breccia nel cuore della Fuller, ancora scossa dai baci dati a Ridge e soprattutto da una scoperta che farà a breve. Legata a cosa vi starete chiedendo? Alla relazione clandestina tra Wyatt e Katie che verrà finalmente alla luce. La Fuller mal digerirà il fatto che suo figlio, chiuso il capitolo Steffi, voglia legarsi ad una donna più grande di lui, per giunta ex moglie di Bill e con la quale lei stessa ha avuto problemi. Ricordate i ricatti cui Katie l'ha sottoposta quando ha scoperto della sua tresca con Ridge? Gli spoiler svelano a tal proposito che Queen sorprenderà suo figlio a letto con la Logan e reagirà in maniera furiosa, trascinandola fuori dalla stanza per i capelli e intimandole sempre, con maniere forti, di stare alla larga da Wyatt. Quando Poirin caserà scoprirà che Eric già sapeva della relazione tra i due e che aveva stretto con i diretti interessati un patto di silenzio. Le anticipazioni Beautiful segnalano che questa faccenda sortirà un effetto negativo nella vita coniugale dei due innamorati, finendo per allontanarli l'uno dall'altro ogni giorno di più. Eric poi, quando scoprirà che sua moglie è arrivata perfino ad aggredire la compagna di Wyatt, l'accuserà di non essere cambiata, così come invece gli ha fatto credere e di non essere in grado di gestire e di contenere le sue reazioni di rabbia. Approfittando di queste tensioni, Sheila ordinerà a Matteo di fare tutto il possibile per conquistare un posto nel cuore della designer. Ma con il passare dei giorni, il ragazzo comincerà ad essere divorato dai rimorsi e dai sensi di colpa, che lo porteranno a vuotare il sacco con Queen. Come si concluderà questa intricata vicenda? Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti. Grazie a tutti!